La siccità e il forte vento alimentano gli incendi nel Bialese, anche se purtroppo è da registrare che quasi sempre l'origine è dolosa. A bruciare la scorsa notte la baraggia, un'area vasta interessata tra Candelo e Mottalciato, una zona di interesse naturalistico compresa in un'area protetta, la riserva naturale delle baragge. Sul posto sono giunti gli uomini dell'antincendio boschivo e i vigili del fuoco. L'incendio rapidamente si è propagato su una vasta superficie a grande velocità, mettendo a dura prova i volontari AIB, intervenuti con una trentina di persone e una decina di mezzi di soccorso provenienti dall'intera provincia. Sono state necessarie ore per contenere e per rallentare l'avanzata delle fiamme, anche a causa della particolare conformazione del territorio. Le operazioni sono proseguite per l'intera notte e le raffiche di vento, sempre nella notte, hanno rianimato anche le fiammelle nei boschi dell'Alpe Cavanna, in territorio di Donato. E anche in questo caso uomini dell'antincendio boschivo, forestale, i vigili del fuoco, sono accorsi sul posto nel tentativo di chiudere il cerchio al fuoco che divampava con fiamme altissime. Senza tregua le operazioni di spegnimento sono terminate soltanto questa mattina, ma la zona rimarrà continuamente vigilata e monitorata. Sono Rodolfo Gilardi, del corpo di Piemonte, stiamo operando sulla zona di questa notte sull'incendio di Donato. C'è un vento fortissimo e stiamo cercando di contenere le ripartenze. Una comunicazione che voglio fare a tutti, tutti quanti, i cittadini, fate attenzione, fate attenzione. Siamo in un momento brutto, i volontari cominciano a essere stanchi, siamo riusciti a risolvere molti incendi, però quello che conta è la gente, la gente che faccia attenzione a non accendere, non accendere i fuochi, lasciar perdere. E se vedono qualcosa chiamare subito i carabinieri, i vigili del fuoco. Io ringrazio molto tutti i volontari che sono intervenuti in questi giorni, negli ultimi giorni, perché ho avuto una grande collaborazione. Spero proprio che questi incoscienti, proprio dico incoscienti, che accendono i fuochi, si mettono una mano sulla coscienza di quello che stiamo facendo. Le nostre famiglie a casa, è un po' di giorni che non ci vedono andare a casa, dobbiamo sempre andare via e abbiamo anche le nostre famiglie. Grazie a tutti, grazie a tutti dell'aiuto che ci potete dare, mi raccomando.